Amici di Radio Bruno, è arrivato Gazzelle, ciao! Ciao, ciao a tutti! Quanto mi piace la tua canzone, ma sai perché? Perché io quell'atmosfera anni 90 l'ho vissuta proprio in prima fila, sono andata a tutti i concerti, non so, dei Blur, degli Oasis, e mi sono ritrovata lì, mi hai aperto questo cassetto meraviglioso con la tua canzone. Beh, mi illusinga questa cosa, sì, perché ha un sound comunque un po' inglese, un po' anni 90, infatti sono molto contento di aver portato a Sanremo anche qualcosa di diverso, e sono molto contento di come è stata accolta la canzone, sta piacendo tanto, soprattutto ai fan, sono tutti contenti, quindi devo dire che sono molto felice. Sei rimasto fedele a te stesso, e poi hai portato proprio il mestiere del cantautore, quello che descrive la realtà, quindi in tutte queste cassa beat, questa voglia di ballare, ci hai fatto sentire e vivere le tue parole, è quello che ha colpito molto. Sì, io scrivo così, cioè questo è il mio approccio alla musica, alla scrittura, ho sempre fatto così, sono un cantautore, scrivo per lo più cose vere, cose che vivo, cose che percepisco nell'aria, insomma, cerco sempre di scrivere cose sincere, oneste, e anche con un linguaggio diretto, sintetico, che va dritto al punto, in questo caso volevo andare proprio dritto al cuore, e poi comunque io non so ballare, quindi non avrei potuto fare pezzi con la cassa dritta. Mai dire mai però, nella vita. Sì, qualcuno l'ha pure fatto, dipende dal mood in cui sei, mi piacciono pure i pezzi con la cassa dritta. Ma questa canzone come è nata? Stavi lavorando a un tuo progetto e hai detto ah, sarebbe perfetta, spiegaci un po'. Sì, la canzone è nata per caso, cioè come tutte le canzoni, è nata all'improvviso, in un momento qualsiasi. Ero in studio, avevo deciso di andare a scrivere qualcosa, perché avevo necessità di... cioè mi scappava, capito, una canzone. E allora sono andato in studio e ne ho scritte un paio, in realtà in quella settimana, con il mio produttore Federico Nardelli e poi ho iniziato a fantasticare sulla possibilità di partecipare al festival, perché volevo fare una cosa nuova e volevo fare uscire questa canzone in questo modo anche, no? Che comunque Sanremo è una cosa diversa, è una cosa sì. E io, non avendolo mai fatto, volevo semplicemente uscire un po' dalla mia comfort zone e fare qualcosa di nuovo e comunque qualcosa di storico per me, perché poi, vuoi o non vuoi, questa esibizione e questa mia partecipazione rimarrà nella mia carriera. Eh, assolutamente sì, ma come la stai vivendo questa settimana? Perché bisogna mantenere una bella concentrazione, avere disciplina, perché è un bel carrozzone musicale, non so come definirlo. Sì, è una settimana densa di cose, no? Poi non è che mi ero preparato più di tanto, perché essendo pure la prima volta non sapevo neanche bene cosa mi aspettasse. Però pensavo peggio, cioè, in senso, alla fine non è male. Cioè, in senso, poi soprattutto quando sto sul palco e canto, lì sono proprio felice, cioè, sono molto... Cioè, sul palco sono a mio agio, capito? E poi, ovvio, è un po' faticoso tutto il resto, le interviste, la mole di impegni giornalieri, però... Cioè, è figo comunque, dai, devo dire che è figo. Poi, quando finirà, dormirò per due mesi. Anche secondo me. E poi ti mancherà. È quello, eh? Chissà. Queste coccole continue, queste interviste, sì. Sì, ma io, vabbè, le coccole le cercherò pure altrove. Con i live, magari, no? Con i live, sì. Infatti non posso dormire due mesi, in realtà, perché a marzo mi parte un tour che dura un mese, quindi, in realtà, starò un po' in giro. Però poi, ho già prenotato, a fine aprile mi faccio una bella vacanza. Sei più da... Guarda, perché ho la curiosità, voglio passare le cover, ma questo mi interessa. Sei più da mare, montagna, un posto isolato, con tanta gente. Che tipo di vacanza ti piace? Di base, vabbè, d'estate vado al mare. Mi piace andare al mare. Poi, la mia ragazza è sarda, quindi, negli ultimi anni vado in Sardegna, per forza, quasi, quindi ci devo andare... Cioè, mi piace andare in Sardegna. Però, in generale, vado al mare, vado in Sicilia, così. Però, a fine aprile, ancora presto vado al mare, quindi vado a New York, perché non ci sono mai stato. Quindi, non sarà proprio rilassante, in realtà, però farò il turista in giro, così. Ottima scelta. Come è stata una bellissima scelta avere fulminacci con te sul palco per la cover e omaggiare il grande Antonello Venditti, con Notte prima degli esami? Sì, c'è poco da dire. È un capolavoro, una delle canzoni più riuscite della storia della musica, più uniche, perché nessun altro ha scritto una canzone sulla notte prima degli esami, no? Né prima né dopo. Quindi, questo la rende una canzone veramente unica. E poi è una canzone anche universale, perché, nonostante... Cioè, quest'anno fa 40 anni questa canzone, l'ho scoperto da poco. Però è una canzone ancora attuale. Cioè, tutti l'hanno cantata almeno una volta, tutti l'hanno ascoltata, no? Proprio prima degli esami, spesso. Quindi è una canzone legata, secondo me, alla giovinezza, all'adolescenza, che è il periodo più bello della vita, credo. E quindi volevamo, con Filippo, con Fulminacci, omaggiare Venditti e omaggiare anche un pochino Roma. Ma c'è un pezzo di questa canzone che ti ricorda, non so, la tua maturità? O comunque ti piace particolarmente della scrittura di Antonello? È tutta bella la canzone, eh? Però un pezzo speciale, particolare? Guarda, io della mia maturità, della notte prima della mia maturità, non mi ricordo niente, perché penso a questo punto, col sonno di poi divertito tanto, no? Però, diciamo, della canzone ci sono delle figure incredibili, secondo me, tipo, tuo padre sembra Dante e tuo fratello Ariosto, che fa ridere perché ti fa capire quanto stai sfasato prima del giorno che c'hai gli esami, che stai studiando così tanto che proprio c'hai le allucinazioni, no? E tuo padre sembra Dante, eccetera. Quindi, tipo, quella frase lì mi piace tantissimo perché è riuscito in due parole a racchiudere questo senso di alienamento, di stress e di ansia che vivi poco prima dell'esame di maturità che poi col sonno di poi si scoprirà noi, cioè tutti che l'abbiamo fatto, che ci sono esami più difficili dopo, ecco. Però, mentre lo vivi, è tutto. Quello è il primo più importante. Però poi hai superato quello. Ho superato quello, poi è in discesa. Si spera. Antonello si è fatto sentire, parte dello staff ti ha chiamato. Sì, sì, no, mi ha chiamato Antonello proprio in persona, ieri. L'altro giorno mi ha mandato un messaggino, ieri mi ha chiamato. No, è stato bellissimo che mi abbia chiamato comunque perché... Unque Antonello. E mi ha fatto un grosso in bocca al lupo. Ero molto contento che cantassimo questa canzone. Anche perché appunto, anche non sapendolo, pure per lui era una cosa figa perché... Sono 40 anni, quindi un po' celebriamo questa festa. E in più lui, insomma, è stato super carino. Ci ha incoraggiato sia a me che a Filippo. Insomma, devo dire che ci ha dato proprio una bella benedizione. Così possiamo cantarla un po' più a cuor leggero pure. Ultima domanda. Guardavi da piccolo, da piccino, immagino Sanremo. C'è una canzone che ti è piaciuta particolarmente, che magari anche ti ha spronato a fare questo mestiere. Sì, diciamo, quelle che mi hanno spronato di più e che mi ricordo di più sono quelle in realtà che hanno cantato prima che io nascessi. Per esempio, Vita Spericolata di Vasco e pure Gianna di Rino Caetano che io me la sono andata a rivedere mille volte. Perché, beh, loro due per me sono gli artisti più fondamentali della mia crescita, soprattutto artistica, ma non solo. e quindi quelle due sono le esibizioni a cui sono più legato. Che scelta che hai fatto. Meravigliosi tutti e due. Hanno cambiato letteralmente la musica italiana. Esatto. Grazie mille, allora, di essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie a Cazzelle. Grazie, ciao, ciao. Ciao.